Il Signore Il Signore fa vedere e chiama, ma non si vuol vedere e rispondere perché piacciono i propri interessi. Capita anche a volte, per il fatto che la voce sia sempre udita, che non la si avverti più, ma il Signore illumina e chiama. Sono gli uomini che si mettono nella posizione di non poter udire più. Carissime amiche e carissimi amici, ben ritrovati. Vi saluta Frate Pier Giorgio. Oggi abbiamo il dono di un pensiero di Padre Pio che è tutto improntato alla dinamica della chiamata e della risposta. Chiamata e risposta è un po' il campo dove si gioca il meglio delle nostre capacità, dove ci accorgiamo che tutti quanti noi siamo invitati a scommettere qualche cosa di più di quello che normalmente riusciremo a fare. Nella dinamica della vocazione e della nostra risposta, alla fine dei conti, si realizza la pienezza della nostra felicità. Questo pensiero che viene proposto per il giorno di oggi, 25 novembre, è ricavato dall'archivio di Padre Pio, le carte custodite nel convento di Santa Maria delle Grazie a San Giovanni Rotondo. E spiega appunto il nostro fratello santo. Il Signore fa vedere e chiama, ma non si vuol vedere e rispondere perché piacciono i propri interessi. Capita anche a volte, per il fatto che la voce si è sempre udita, che non la si avverti più, ma il Signore illumina e chiama. Sono gli uomini che si mettono nella posizione di non poter udire più. Abbiamo plasticamente la spiegazione da parte di San Pio di come riuscire a cogliere questa luce, di come fare per ascoltare questa voce di un Dio che sempre viene e chiama. Qualche volta, vedendo la penuria di sacerdoti che c'è in giro, oppure la mancanza di religiosi in alcune case, un tempo molto ricco di presenze, sia maschili sia femminili, ci viene da concludere che è carente e difetta la vocazione. Non sappiamo invece che il Signore non si lascia vincere da nessuno in generosità, dunque non potrebbe essersi accorciato il suo braccio, non potrebbe essere diventata più flebile la sua voce. C'è abbondanza di chiamata, quella che scarseggia invece è la nostra libertà, la nostra capacità di offrire risposte coraggiose, la nostra determinazione a metterci in sintonia con la parola del Signore che ci convoca. Perciò scrive bene Padre Pio quando dice che tante volte a noi piacciono di più i nostri interessi, facciamo orecchio da mercante, come quando non vogliamo essere disturbati e ci capita di metterci anche dei tappi nelle orecchie. Non ci potrebbe essere atteggiamento peggiore di questo per non cogliere le sollecitazioni che ci vengono dall'alto. Vogliamo oggi scoprire che questa voce da parte di Dio continua ad essere presente, ma che toccherà anche a ciascuno di noi pregare perché il Signore mandi operai nella sua messe. Una delle pochissime preghiere da Gesù richieste espressamente nei Vangeli è proprio questa. Pregate il padrone della messe affinché mandi operai nel suo campo. Non dimentichiamo questa intenzione soprattutto nella giornata di oggi. Buon cammino e shalom per tutti quanti voi.